In tre partite un grande piacenza. Sì, diciamo che ci siamo ripresi, dobbiamo ancora migliorare in tante cose, abbiamo visto il secondo tempo di Sassuolo o gli ultimi dieci minuti qui in casa con l'Ascoli, però siamo molto più convinti, molto più sicuri e sicuramente miglioreremo ancora. Abbiamo chiesto a tutti, lo chiediamo anche a te, cosa è cambiato, cosa ha portato Ficcadenti a questa squadra? Ma, sicuramente non lo so, forse siamo più sicuri di noi stessi e anche i risultati hanno facilitato il nostro compito. E niente, sicuramente con questo modulo qui ci troviamo bene, riusciamo a giocare meglio secondo me e cerchiamo di migliorarci.